Per la decima giornata di ritorno della prima categoria giornalmente va a scena lo sconto diretto tra Profi Kull e Tiber. Due pretendenti al secondo posto finale con i tre punti di oggi potrebbero decidere chi sarà a godere del miglior piazzamento nella fase playoff. Spendere la cornice di pubblico anche quest'oggi con gli ultras casalinghi sempre presenti per sostenere la propria squadra. Primo a fondo di marca ospite con Bordacchini che cerca la conclusione dal limite ma non trova lo specchio della porta. In questa prima fase dell'incontro da Tiber a tenere il pallino del gioco e dal ventiduesimo si porta in vantaggio. Uscita scordata di Molli Kerla su Bordacchini. Per il direttore di gara il signor Nica di Terni non c'è alcun dubbio e la palla è sul dischetto. Bordacchini dagli 11 metri non sbaglia e sigla lo 0-1. Si scuota allora la Profi Kull che risponde al venticinquesimo. Punizione ben calciata all'interno dell'aria. Basile dalle retrovie buca la difesa e di testa batte Marinacci ristabilendo la parità. Nuova occasione per i padroni di casa pochi minuti più tardi. Cocchi serve Pagnotta che però conclude fuori. Non resta di certo a guardare la Tiber che si riporta in avanti al trentacinquesimo. A fondo dalla sinistra è conclusione di Sava che termina alta sopra la traversa. Al quarantesimo minuto Ficuli in attacco. Pagnotta Diego prova la conclusione dal limite. Marinacci blocca senza problemi. Nuovo ribaltamento di fronte al quarantatresimo minuto. Corner tra la destra e tappi in vincente di Coletti che riporta in vantaggio la squadra ospite. Ma anche questa volta la gioia breve. Spinge la proficule con Cocchi che trova lo spazio tra le gambe dei difensori e serve da Aurelio. che di piatto trova il diagonale vincente e rimette tutto in discussione. All'intervallo quindi siamo sul 2-2. Si riprende il secondo tempo con i padroni di casa subito all'attacco. Cocchi dal limite trova la deviazione del difensore a vanificarne il suo tiro. E poi ancora Pagnotta che non riesce a sfruttare la bella palla servita in Andra Basili. Al quinto minuto si accende il parapilla generale con i giocatori delle due formazioni che accercano l'arbitro per far varre le reciproche ragioni. A farne le spese alla fine Pagnotta che deve raggiungere anzitempo gli spogliatoi e lasciare i propri compagni in 10 uomini per il resto della gara. Al ventitresimo ancora proficule con Cocchi che cerca la soluzione dalla lunga distanza. Marinacci attento il devia in corner. Sempre Marinacci sugli scuri al ventisettesimo. Brava a togliere la palla dall'incrocio dei pali su conclusione di topo. Cambia di nuovo il punteggio al trentaduesimo. Cocchi riceve palla, controlla e si gira e batte Marinacci con una bella conclusione dal limite dell'aria. E spoglie la gioia del numero 9 che va a risultare sotto la propria curva. Tutto è ancora da scrivere però in questo match. Dal quarantacinquesimo c'è una nuova percussione offensiva della Tiber con Morelli che fa partire un tiro cross che sorprende Mollichella e si insaccarete. Paritita di nuovo in parità. In pieno recupero poi pasta addirittura l'occasione per la vittoria ma la sua conclusione è diviata in corner da un bravo Mollichella. Termina qui la contesa con un risultato di parità che non sposta gli equilibri e lascia tutto invariato in classifica. È stata una bellissima partita, giocata contro un avversario forte, veramente forte. La Tiber è una squadra ben messa in campo, forte fisicamente, una grande squadra. Ma mi sento di oggi che ho visto una figullese incredibile. Ha fatto una partita straordinaria dove veramente il pareggio ci penalizza troppo questo pareggio perché diciamo che addirittura siamo rimasti in dieci all'inizio del secondo tempo siamo andati sopra a tre a due e abbiamo subito una palla svirgolata il gol del tre pari. Però in dieci contro undici la squadra è stata compatta e ha dominato in largo e lungo il campo e abbiamo rischiato anche di fare più di un'occasione ci abbiamo avuto. Quindi mi sento di veramente ragazzi bravi, complimenti per il campionato che stiamo facendo e soprattutto per la partita di oggi. Penso che sia stata una bella partita, almeno per chi è venuto a vederla si è divertito perché è 3-3 quindi tanti gol, anche tante emozioni, una partita agonisticamente molto combattuta quindi penso che da quel punto di vista è stata una bella partita. Io ai miei ragazzi ho fatto i complimenti perché secondo me hanno fatto una buonissima partita e l'hanno interpretata come doveva essere interpretata. Poi noi abbiamo i nostri limiti, i nostri difetti, creiamo abbastanza, giochiamo anche abbastanza però concretizziamo poco. Davanti poi tra l'altro abbiamo una squadra che al nostro contrario quando ha un'occasione importante la capitalizza al massimo perché adesso senza nulla togliere la figulese ma mi sembra che abbia fatto tre o quattro situazioni e di cui comunque sono arrivati tre gol perché è stata una traversa, i tre gol e sinceramente poi adesso non mi ricordo le altre parate del nostro porchiere o meno però penso che il risultato alla fine comunque sia giusto c'è da dire anche che la figulese in 10 contro 11 aveva trovato il gol del 3-2 quindi bisogna dare atto anche di questo. Andiamo avanti, ormai penso che il discorso primo posto sia chiuso e insieme alla figulese ci giocheremo il discorso secondo posto e poi vedremo quello che succederà ai playoff. Voglio chiedere scusa dopo l'episodio del terzo gol perché mi sono un po' lasciato andare anche a un gesto che non è da me però magari la partita, l'adrenalina, l'agonismo quindi mi scuso anche con la società figulese per qualche gesto che doveva essere evitato.